L'amiopia è quel difetto visivo che provoca una visione sfocata da lontano. Ne affetta circa una persona su tre e la sua diffusione è in costante aumento, probabilmente a causa di tutto il tempo che dedichiamo alla visione per vicino, compresi smartphone, libri, computer e attività al chiuso in generale. L'occhio miope è più grande del normale e generalmente ha una forma allungata. Si può immaginare l'occhio miope come un palloncino di gomma eccessivamente rigonfio. Le pareti si assottigliano molto ed aumenta la possibilità di lesioni retiniche. Esistono varie entità di miopia, quella più lieve fino alle 3-4 liottrie, quella medioforte fino alle 9-10 liottrie e quella elevata o patologica per valori superiori. Particolarmente fastidiosa è la differenza di miopia tra i due occhi, dato che il cervello gestisce con difficoltà immagini di dimensioni e qualità diversa, spesso sopprimendo uno dei due occhi. La miopia lieve fino alle 3-4 liottrie si corregge perfettamente con il laser. Sia la PRK che la Femtolasic sono idonee ad una correzione sicura e definitiva, ma per miopia di entità medioforte si preferisce certamente la Femtolasic. È però la tecnica SMILE la metodologia più recente e all'avanguardia. è brevettata e realizzata con tecnologia Zeiss e per effettuarla viene utilizzato solamente un unico laser. Per le miopie di entità più elevata è comunque possibile ottenere una perfetta correzione del difetto visivo mediante impianto di apposite lenti intraoculari, dette ICL, che vengono posizionate dietro la pupilla in maniera da risultare totalmente invisibili e forniscono una qualità visiva uguale o addirittura superiore rispetto a quella del laser.